Abbiamo parlato delle tavolate in onore di San Giuseppe e siamo a fianco di un giovane, Francesco Mele, che insieme ad altri giovani sta riscoprendo le tradizioni, i segreti di queste antiche tavolate. Come vi è nata questa passione? Prima di ogni cosa abbiamo incominciato dal piccolo, come si sa ogni cosa parte dal piccolo, fino a che siamo arrivati abbiamo incominciato da tipici dolcetti, tra dolcetti e pasta fritta e chiamatele incartellate. Le incartellate che vengono fatte con il miele abbiamo incominciato per sfamare un po' per una necessità familiare, per i nonni, insieme ai nonni ci siamo affiancati a fare questi piccoli dolcetti. Sino a che siamo arrivati con gli anni abbiamo deciso di ingrandire, ma questo ingrandimento è anche dovuto per riscoprire come dicevamo la tradizione, imparando i segreti, ciò che i nostri nonni ci insegnano e la pietra preziosa sono soprattutto loro. Noi cerchiamo di riscoprire tutte queste tradizioni soprattutto grazie al loro aiuto e al loro sostegno, imparando soprattutto i piatti tipici, che sono i piatti della sopravvivenza, i piatti tipo il grano, la massa, la massa con i ceci, i piatti che tuttora vengono mostrati in queste tavolate.